Il corso di un vagone di ronchini è sceso anche in questa stazione delle strade. Pensavo non conoscesse la strada per un posto così, pensavo non avessi voglia di venerci a litigare per una storia che non conosciamo nemmeno bene. E' una storia che non conosciamo nemmeno bene, tra le case vuote e piccate, giocare a nascondire. Al mercato, al mercato, al mercato, al mercato, al mercato, al cioio di un cioio di un po' sferanza. Oggi è che io vado a fare una parte della vita, voglio vedere se mi vado a fare una scelta. Mi schiaffo a quello che mi ferrà, mi schiaffo a quello che mi fanno, mi schiaffo a quello che mi fanno, mi schiaffo a quello che mi fanno, mi schiaffo a quello che mi fanno. facciano il giocatore di chi ha visto troppo mandano i saluti quelli che non hanno fatto in tempo a farlo e io e io che non so se ho voglia di campare abbastanza per guardarci in faccia un giorno grazie 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 grazie